Il mio curriculum è un curriculum che può spaziare in tanti lavori, però mi manca il sorriso, adesso ho anche quello e sono completo. Ciao, mi chiamo Clemente Massimiliano e abito in provincia di Rovigo a Porto Viro, che è un paese vicino a Venezia, 60 km da Venezia, nel Veneto. Il mio percorso è stato un percorso molto difficile perché i dentisti da noi, economicamente parlando, facevano sempre il lavoro peggiore, però il più economico. Quindi mi hanno rovinato teoricamente la bocca e mi hanno provocato la piorrea. Io in Italia ho trovato dottori che mi dicevano che si poteva fare o dentiere oppure un impianto di 4 impianti sopra e 4 sotto, un preventivo al doppio del prezzo che ho speso qua. In Italia ho speso intorno ai 50.000 euro in tutta la mia vita di dentista e è una cosa un po' grave perché nel 2010, quando il dentista, io avevo 17 denti ancora miei, nel 2010, ho speso intorno ai 12.000 euro e lui mi ha limato tutti i miei e mi ha incapsulato i denti, però facendomi una protesi mobile sotto e quelli sopra mi ha provocato la piorrea. Il dottor Palmas è stato bravo che ha creato un'equip di gente tutta professionista nel loro settore. Tutti sicuramente sanno fare anche il lavoro degli altri, però nel loro settore sono dei veri professionisti. Io sono stato no contento ancora di più. L'unico rimorso è non averlo fatto prima. Cioè se avessi la possibilità o la sfera di cristallo per tornare indietro nel tempo, sarei venuto qua nel 2010. Cioè nel 2010 non c'era niente, ma alla prima occasione avrei aspettato nel 2010 e sarei venuto qua nel 2012 a sistemarmi e avrei ancora i miei sicuramente. Il sorriso è la base di ogni persona. Quando uno arriva con un sorriso sei già avvantaggiato. Puoi andare a chiedere lavoro, puoi fare qualsiasi cosa che sei visto in una maniera diversa. Io almeno trovo questa sensazione. Cioè io abito sul mare, andavo al mare e dovevo sempre tenere la bocca chiusa oppure ridere. Non era vita. E questa è vita.